Adesso l'Empoli si distende, Maccarone con l'esterno, Evan Necciolizzi entrare di rigore, resistono a carica e poi infila in rete, 2-0 il Georgiano che segna il suo primo gol in campionato con la maglia numero 9, 2-0 Empoli sulla Juve Stadia, rivediamolo, eccolo qua, sinistro a incrociare sulla base del palo e poi il pallone che finisce in fondo al sacco.